Portate il vero amore. 31 marzo 1974. Figli miei, figli di Dio, sia fede profonda nei vostri cuori, sia amore perfetto in voi, amore di Dio e del prossimo, e siate gioiosi, poiché la fede e l'amore sono fonte di felicità. Sono l'Immacolata, sono l'umilissima che Dio, nella sua infinita bontà e misericordia, ha scelto per essere madre del Verbo incarnato, e in Lui e per Lui ha voluto estendere la mia maternità a tutti gli uomini. Come madre di Dio, fui chiamata ad essere corredentrice del genere umano, e la mia volontà e capacità di salvezza si effusa con quella del mio Figlio, vero Redentore e Salvatore del mondo. Ma come madre vostra, io chiamo tutti e ciascuno di voi ad essere il prolungamento del braccio del mio Gesù, e il prolungamento della mia volontà di salvezza. Io desidero che voi vi rendiate consapevoli di una chiamata particolare. Siete stati chiamati al cristianesimo col santo battesimo. Avete ricevuto il comando di camminare nella via della perfezione, poiché Gesù, i Suoi seguaci, li vuole santi. Ma la chiamata ad essere miei devoti, miei missionari, è un dono tutto particolare che sta a dimostrarvi la tenerezza particolare del mio cuore a vostro riguardo. Mi potrete dire che voi sognate una posizione nella vita, una famiglia. Ed io acconsento che voi abbiate questi desideri e vi aiuterò a portarli a termine. Ma nel mondo attuale, in cui la violenza e la sottovalutazione del valore della vita è così grande, voi dovete impegnarvi a portare il vero amore, l'armonia e la pace. Ricaverete frutto da questo apostolato, poiché vi assicuro che nelle famiglie che formerete regnerà la pace. Avvicinare anime sconfortate, depresse e disperate è il secondo impegno. Quando vi è meno, la fede nei cuori, tutto diventa insopportabile e si pensa al suicidio come al rimedio di ogni male. Sappiate scoprire le piaghe di cui sono coperti i vostri fratelli, piaghe sanguinanti che a mala pena vengono celate. Portate il Signore ai fratelli, perché possano godere di quella serenità che voi avete sperimentato. E anzitutto siate quei figli miei che guardano la vita nella sua realtà. Una prova da superare, una meta e un ideale da conquistare. Non siate mai cristiani a metà, cristiani che tengono il piede in due scarpe. Siate sinceri, siate caritatevoli e umili. Sappiate tacere e parlare quando è necessario per difendere la verità. Tacere quando il vostro silenzio può essere più eloquente della parola e parlare, quando dovete dare gloria a Dio e valorizzare la vostra fede. Io vi benedico. Verrò a tavola con voi, verrò con voi in visita alla città. Voi mi porterete nei vostri paesi e mi farete conoscere ed amare. A chi con più calore mi propaga, io darò l'efficacia della parola. Bene, bene, figli miei! Non vi vergognate di me, ed io non mi vergognerò di voi presentandovi al Padre. Da questo cenacolo e da quelli venuti da tanto lontano, sorgeranno vocazioni religiose e sacerdotali che aumenteranno la gloria della Chiesa. A tutti il mio abbraccio affettuoso e materno, pieno di suavità e di grazia.